Sono le 10.35 del 26 gennaio 2023, sto attraversando il ballone della selva dei frati, già ho percorso un tratto, qui man mano che si va sopra si amplia il ballone, ecco qui, questo prosegue per circa, per arrivare su su su, a questo passo sennò un'ora, un'ora e mezza, sennò cosa c'è qui, è caduto un albero secco, sradicato, questo di recente perché vedo che l'edera è ancora fresca, adesso avranno settimane se non c'è secca, continuiamo da questa parte, qui, il torrente del ballone è libero, c'è stato il transito dei cinghiali, si, transito dei cinghiali, guarda che pietra, c'è un buco, ah no, questa, era un cosiddetto recensione, e continuiamo a salire, cosa c'è qui? e arriviamo esattamente qui al centro della selva dei frati, comincio a sentire anche caldo, ho più di un cinghiali, quindi è opportuno togliere un cinghiali e proseguire, questo è, allora, questo è stato fatto circa 40 anni fa, vedete, la bell'opera, e a partire da questa zona è a menota.